Sottoscritto in Regione a Bari il protocollo d'intesa sul monitoraggio ambientale nel territorio di Barletta integrato con la clausola proposta dal Presidente della provincia di Barletta, Andrea Trani, Francesco Spina a garanzia dei procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti ed aperti a livello provinciale. Vediamo. Che cosa consiste la firma di questo protocollo per il monitoraggio ambientale a Barletta integrato proprio con una clausola proposta tra l'altro dalla provincia BAT? Penso che sia la clausola di garanzia tra il passaggio da un vecchio sistema di controlli che pure non sono mancati nel rispetto delle norme di legge con un nuovo sistema di controllo ambientale integrato con la partecipazione di tutti gli enti. La clausola di garanzia consente di salvaguardare i procedimenti amministrativi e giudiziari che la provincia aveva intrapreso e che chiaramente sono rivolti naturalmente a soggetti che erano stati destinatari di alcune ordinanze o altre questioni provvedimentali di questa natura. È evidente che in questo modo noi salvaguardiamo quello che sarà il futuro, che è molto più sereno, tranquillo, si risparmierà, non ci saranno duplicazioni di controlli, ci sarà una razionalizzazione, un sistema di aiuto tra le varie istituzioni. Quindi complimenti alla città di Barletta e al sindaco Cascella per aver promosso questo meccanismo e questo percorso di monitoraggio integrato che è moderno, che responsabilizza la provincia di Barletta-Andreatrani in questa gestione di controlli ma al contempo costituisce anche un modello operativo di governance del sistema ambiente veramente da mutuare in tutte le parti d'Italia. Che cosa rappresenta questo protocollo per la città di Barletta? Un passo in più per la tutela ambientale e la sicurezza della salute dei cittadini, perché riguarderà un monitoraggio da parte di strutture pubbliche, quindi di strutture accreditate anche con una strumentazione scientifica particolarmente significativa su un'area industriale che lo sviluppo tumultuoso degli ultimi anni ha portato a essere a ridosso dell'area urbana. Tra l'altro poi vicino al confine con Trani e Andria dove ci sono altre aree industriali particolarmente significative. Noi abbiamo il problema di restituire al nostro territorio la sua capacità di svilupparsi in maniera sostenibile, cioè mettendo insieme capacità produttive e il proprio patrimonio storico e culturale e la sicurezza dei cittadini.